Un saluto affettuoso a tutti. Io sono ancora purtroppo a San Raffaele, ma per voi ho messo anche questa mattina giacca e camicia. Dopo il mio intervento di sabato scorso alla convention di Forza Italia di Milano, mi permetto di disturbarmi ancora per ricordarvi che domenica e lunedì, cioè dopodomani e dopo dopodomani, si svolgeranno le elezioni amministrative per i sindaci e per gli amministratori in 700 comuni e città italiane, di cui i principali capoluoghi di provincia per numero di abitanti sono, vediamo se mi ricordo a memoria, ma le ho anche scritte. Brescia 196.000, Latina 127.000, Vicenza 109.000, Terni 106.000, Ancona che tra queste città è l'unico capoluogo di regione che va al voto. Pisa 88.000, Treviso 84.000, Brindisi 82.000, Massa 66.000, Siena 52.000, Teramo 51.000, Imperia 42.000 e Sondrio 21.000. Come avete potuto constatare sono tutte le nostre importanti città e io ho ancora una bella memoria. Ecco, vorrei ricordare a tutti i nostri cittadini il dovere di andare a votare, perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città, quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano. Voglio ricordarlo a tutti gli elettori di Forza Italia, ma anche agli altri elettori dei partiti che formano la maggioranza del governo attuale, di cui noi siamo la spina dorsale. E voglio anche ringraziare quegli elettori che nei 700 comune, là dove ci sarà un nostro candidato capace e convincente e credetemi, noi li abbiamo scelti veramente con cura e con attenzione, li abbiamo scelti bene, daranno a noi e a Forza Italia il loro voto, perché questo voto alle amministrative può incidere anche sul peso del nostro governo. Quindi vi ringrazio tanto, vi abbraccio tutti, spero di uscire presto da qui e mi raccomando, andate, andate a votare!